Il mio pensiero è che un meccanismo che incentivi, che aiuti, che obblighi per qualche verso le forze politiche a candidare in posizione leggibile le donne sia positivo. Tuttavia è vero anche che ci sono forze politiche come il Partito Democratico che hanno portato quasi il 40% di donne in Parlamento senza una norma, quindi ci vogliono le regole ma ci vuole anche la volontà politica. Il parere positivo sull'emendamento per le quote rosa all'interno della riforma elettorale arriva dall'onorevole Marina Sereni, vicepresidente della Camera dei Deputati, ad Arezzo per una lezione magistralis sul tema donne, lavoro, istituzioni e politica, all'interno delle iniziative promosse dai consigli provinciali e comunali di Arezzo per la festa della Toscana, in collaborazione con l'Istituto Storico Aretino della Resistenza e dell'Età Contemporanea. Questo è un paese bello, grande, anche grazie alle tante donne importanti o sconosciute che hanno lavorato e si sono battute per la libertà, per i diritti, per l'eguaglianza. E poi però è anche un appuntamento per dire quanta strada ancora dobbiamo fare, a partire dalla legge elettorale che si sta discutendo oggi, per arrivare ai temi del lavoro e dell'occupazione che riguarda principalmente i giovani e principalmente le donne, quindi temi economici e sociali, temi civili e politici che ci richiamano alla necessità di continuare lungo la strada della promozione dei talenti femminili. Soprattutto in politica. La Sereni si dice orgogliosa di vedere, dallo scranno che fu di Nilde Jotti, tanti giovani deputati in Parlamento. Plauso va anche agli otto ministri in rosa del nuovo governo Renzi. Sono tante, sono brave, sono competenti, sono giovani. Sono la cifra dell'ambizione di cambiamento che il governo Renzi ha messo in campo. La società italiana è fatta di donne e di uomini e anche le istituzioni italiane, se sono fatte di donne e di uomini, riescono meglio a rispondere alle domande di cambiamento che oggi sono profonde e radicali nella società italiana.